Amici dei due minuti di gas, ecco qua il mio amico Marco De Veglia, speciale, speciale. Voi vi domanderete, secondo me si chiederanno, di cosa avete parlato a cena stasera? Avrete parlato degli altri formatori, del mercato della formazione, degli ultimi ritrovati, abbiamo fatto una cena così? No, abbiamo parlato di robe serie, abbiamo parlato di vita, ci siamo conosciuti, cose importanti, perché quando ci si incontra, prima volta, ci si vuole conoscere. Però è nata una chimica, e questo sia di insegnamento a tutti quelli che vogliono scroccare sempre informazioni, che incontrano una persona la prima volta, volevano già arraffare il know-how e tutto. Quando incontrate le persone, prima di tutto dovete conoscere le storie delle persone. E sentirle, no? E sentirle, ci si trova, ci si parla, ci si sente e poi le cose vengono. Assolutamente sì, io ho avuto la sensazione di avere di fronte un uomo, prima di tutto, con una storia molto interessante. La mia la conoscevo. Ma io no, e devo dire che è molto bella, molto bella. E non abbiamo parlato di formazione, quindi non abbiamo nulla da raccontarvi di speciale, di nuovo, se non che, se non che, può darsi che magari... Anche perché la formazione, più che parlare, si fa, no? Esatto, si fanno i fatti. Si fanno i fatti. È stata veramente una piacevole serata. Devo dire che in un frangente di tempo molto corto abbiamo, io ho raccontato tutto quanto quello, e lui anche, e c'erano tantissime cose che di entrambi non si conoscevano. Assolutamente. Si legge, si fa, si briga. Io avevo un'opinione che ho assolutamente implementato e capito. Io sapevo solo che lui era un grande imprenditore, però... Bella persona. Grazie, grazie Marco. Bella persona. E non si sa mai, può darsi che ci vediate insieme. Ciao. Alla prossima. Ciao.